Finalmente riapre la piscina comunale Ondina Valla di Viale Ovidio, impianto sportivo interessato negli ultimi anni da lavori di messa in sicurezza e a modernamento. Piscina che è gestita dall'associazione sportiva Rarinantes del presidente Gianni Benevieri. La struttura fu chiusa alla fine del 2022. La riapertura è stata attesa da tutta la cittadinanza vista l'importanza della struttura sportiva, oggetto di significativi lavori di ristrutturazione e riqualificazione finanziati da risorse del fondo complementare del PNRR con 700 mila euro. Come Aquilano oggi io sono felice perché riapre questa piscina che come ben sappiamo è la piscina degli Aquilani. Qui tutti hanno imparato generazioni e generazioni a notare e a fare sport, quindi c'è questa veramente gioia che oggi riapre. E' chiaro che oltre questo c'è anche il piacere, che c'è la possibilità di servire tutta l'utenza in una maniera migliore, perché qui abbiamo a disposizione ulteriori otto vasche rispetto a quelle che abbiamo qui all'Aquila, altre cinque vasche più piccoline e quindi tutti possono fare la propria attività in maniera migliore, sia le squadre sportive, specialmente quelle che hanno molto sofferto alle altre piscine perché non avevano l'altezza giusta, parlo della pallannuoto e del nuoto sincronizzato. Ovviamente qua c'è la possibilità anche di ospitare i disabili, che è una cosa molto importante, di fare in una certa maniera anche quella che è la fisioterapia che abbiamo sempre fatto. Quindi c'è anche questa grossa possibilità per gli Aquilani di poter soffrire in pieno di una struttura che si va aggiungere ovviamente a quelle già esistenti. Fa anche piacere perché così possiamo tornare a fare quelli che sono i meeting. Gli interventi hanno riguardato la zona del seminterrato, la riparazione di travi e solette, il rinforzo della piscina più grande con relativa sostituzione del filtro, rifarcimento della copertura della vasca più piccola e del giunto tra le due parti. Sostituiti oltre gli infissi e tutte le vetrate, rimessa a nuovo la pavimentazione esterna davanti all'ingresso principale e al pianerottolo. Noi a differenza del passato non abbiamo messo la testa sotto la sabbia. Gli impianti avevano dei problemi strutturali rilevanti che avrebbero potuto causare anche rischi per i tantissimi utenti. Ci siamo presi la responsabilità di trovare le risorse, di chiudere gli impianti, di fare lavori di ristrutturazione. Verdeacqua l'abbiamo riconsegnata già da un po'. Questa mattina diamo di nuovo le chiavi ai gestori della piscina. Siamo consapevoli che bisogna fare ancora degli interventi internamente, ma stiamo collaborando gomito a gomito insieme all'assessorato alle opere pubbliche e all'assessore Vito Colonna per cercare di venire incontro alle esigenze dei gestori, che significa venire incontro alle esigenze dei tantissimi utenti di questi impianti.